gasperini gasperini ma cosa rompi le scatole gasperini presero pirlo al posto tuo preferirono pirlo al posto tuo piangerini ragazzi l'inter ha vinto una partita difficilissima perché questo non è calcio questo è calcio fiorentino questi hanno menato dal primo all'ultimo minuto ma di cosa vuoi ragionare non lo so dov'è i cinesi a parte quello questa è una partita vinta con carattere con organizzazione perché queste partite sporche l'inter l'anno scorso non le vinceva quindi io sono felicissimo perché questa questo è un segnale importante per il campionato lo dico a te gufo è inutile tu speri capito è inutile tu accendi le candele quando gioca l'inter quest'anno ci rimani male queste sono partite difficili da vincere sono partite sporche uno contro uno in tutte le zone del campo ti arriva la palla non hai non hai tempo di ragionare capito questa era una partita difficilissima vinta meritatamente un inter d'acciaio un inter resistente e a maggior ragione gasperini tutto bagnato vai a farti una doccia calda e cambiati gasperini perché ci hai rotto i coglioni è inutile tu piangi ma poi ragazzi ma questo è calcio fiorentino questo non è calcio questo è calcio fiorentino noi abbiamo assistito ad una partita di calcio fiorentino ma nonostante tutto l'inter porta a casa tre punti meritatamente dimostrando carattere organizzazioni di gioco e soprattutto mentalità d'acciaio perché non era semplice quindi quando c'è da fare complimenti bisogna fargli complimenti a questi ragazzi bravi bravi e bravi gasperini e toco